Penso sempre lo stesso perché senza di avere gioia, perché non deve diventare che è una cosa che si fa per forza, perché per capire se ho scelto bene la professione che faccio, deve tutto questo lavoraccio diventare come una gioia, perché se faccio hobby, hobby è diventato mio lavoro, in questo caso sono la persona più felice del mondo, perché se lavoro 10 ore ogni giorno, oppure se lavoro tutto il giorno fino alla mezzanotte, fino a domani, dopodomani non riesco a finire le cose che mi interessano e sono felice, è questo che fa la vita più bella. È lo stesso, è sempre studiare, studiare, studiare. Il mondo contemporaneo è molto difficile da face perché è un mercato globale, diciamo. Quindi vorrei dare il consiglio di essere aperti a molte esperienze, non di restringere solo un reperto, ma di cercare di avere , non di soli più ampia, siccome di soli anche solo un corso, non di soli più barocco, anche per ora anche altri, di soli ulteriori, musicale, concerti, molto più, i dire, un modo molto più grande, così adesso potre cose più opportuni di ottenere, perché l'esperienza è molto importante, perché l'esperienza è simulata. Se non aprendi a cantare in una scuola o in una sala in una scuola, si aprendi 50% della sua professiona, la qualsiasi 50% si aprendi a una scuola. Quali scuola è buona scuola, come baroque musica, popa, qualsiasi fare, è una buona esperienza. Quindi provate come potente, perché il mercato di contemporare è molto demandante e è molto grande, c'è molta competizione, quindi la più scuola è meglio.